Gesù è la roccia della tua vita. Cristo risorto, buona giornata, carissimi amici, buon inizio settimana. Con la parola di Dio, con il Vangelo, avremo soltanto buone notizie oggi. Ascoltiamola e leggiamo Marco 12, 1, 12. In quel tempo, Gesù si mise a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti, agli scribi e agli anziani. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno, mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo, anche quello, lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e questo lo uccisero, poi molti altri. Alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato. Lo inviò loro per ultimo, dicendo, avranno rispetto per mio figlio. A quei contadini dissero tra loro, costui è l'erede, su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. e cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito, infatti, che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. Amè. Cari amici, oggi abbiamo un Vangelo dove Gesù parla a dei destinatari molto precisi, che sono capi dei sacerdoti, scrivi e anziani. Tutte persone molto colte, con un ruolo molto importante nel popolo di Israele, soprattutto a livello religioso. conoscevano la legge, erano giudici. Loro non accolsero Gesù. Di fronte al messaggio, all'annuncio, ma alla persona stessa di Gesù, hanno dubitato e cercavano motivo per condannarlo. perché il suo agire, il suo parlare, non era secondo la legge, secondo loro e soprattutto violava molte cose nella loro fede e religione. Gesù racconta una parabola alle persone e tutti capiscono che era contro di loro, contro questi capi, tanto che se ne vanno. Gesù dice, alla fine, non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Fratelli e sorelle oggi, pur vivendo in un contesto culturale e storico totalmente differente da duemila anni fa, abbiamo però una stessa medesima esperienza nei confronti di Gesù. Ci sono persone che dicono a noi non ci interessa, tenetevelo per voi, vivete la vostra fede, per noi è oppio, come diceva qualcuno, l'oppio dei popoli. La fede, la religione è qualcosa che addormenta, è qualcosa che ti fa perdere tempo. Noi non ne abbiamo bisogno. Dall'altra parte, invece, abbiamo delle persone che hanno volontariamente rifiutato Gesù perché dicono, ma lo conosciamo, conosciamo la Chiesa, i preti, i vescovi, non parlateci perché siamo stufi di tutto questo. Quindi Gesù viene scartato per questi due motivi o anche per altri. Ma sappiamolo bene, sappiatelo bene, come ha detto Gesù stesso, come è citato nella scrittura, nell'Antico Testamento, colui che è scartato diventa, per chi lo accoglie, la pietra d'angolo. Diventa un fondamento dove costruire la propria vita, la propria casa. Anzi, addirittura, Gesù dice questa è una meraviglia perché perché Gesù, che viene scartato da un mondo, che viene scartato da incomprensioni, difficoltà, disagi e ferite nella Chiesa stessa, Gesù in realtà è l'unica pietra d'angolo. è l'unico fondamento sul quale noi possiamo porre la nostra vita, è rimanere saldi, essere riempiti, essere attirati a Lui e vivere in piena libertà. Ciò che gli altri dicono, la fede, la religione cristiana o ciò che voi fate in Chiesa, nelle vostre preghiere, è qualcosa che ti appesantisce, che ti schiavizza, che ti elega. In realtà non è così. Gesù ti libera, fratelli e sorelle. La mia comunione, la mia relazione con Cristo è fonte di libertà, la libertà vera. Chi segue Cristo è libero. Chi commette qualcosa di male, quindi del peccato, diventa schiavo del peccato. E allora oggi io vi invito, proprio all'inizio di questa settimana, ad accogliere Gesù come Signore e Salvatore e ad offrirgli tutta la nostra vita. Diciamo insieme, Signore Gesù, grazie, perché oggi hai parlato al mio cuore. Grazie perché tu sei colui che è scartato da molti oggi nella società, nel mondo, nella mia vita e anche nella mia famiglia. Ma io non ti scarto, io ti accolgo come mio Salvatore, come il Signore del mio cuore, della mia famiglia, del mio lavoro e di tutto ciò che io ho. Ti metto al di sopra di tutto e voglio che sia tuo a dirigere la mia vita. A te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ecco lo slogan di oggi. Gesù è la roccia della tua vita. In Gesù noi siamo salvi, in Gesù non vacilleremo mai. Allora quanto è importante conoscere Gesù e lo conosciamo quando noi ascoltiamo i testimoni che sono gli evangelisti Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Domani sera ci sarà un'occasione meravigliosa per incontrare Gesù attraverso il Vangelo secondo Marco nel nostro seminario online Gesù nei quattro Vangeli. Le iscrizioni si fanno sul nostro sito web. Grazie per averci accolto. Buona giornata. A domani. Ciao. Parlami Signore Ti ascolto Parla Signore Perché il tuo servo ascolta Parlami Signore Ti ascolto Grazie per aver dotado Parli